La FIAS di Salerno denuncia la illogica collocazione di pazienti affetti da Covid-19 all'interno del reparto di ortopedia di Polla. In una nota pubblicata nella giornata odierna, infatti, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità ha voluto porre l'attenzione sulla trasformazione, a dire dell'ente inappropriata, dell'unità operativa di ortopedia del presidio ospedaliero di Polla al reparto Covid, dopo che alcuni pazienti i vi ricoverati sono risultati positivi al virus, seppur con pochi sintomi. Tale trasformazione delle finalità del reparto suddetto, si legge nella nota, notoriamente a vocazione chirurgica traumatologica e non certamente infettiva, è inappropriata sia per i pazienti che per il personale, in quanto i livelli assistenziali non sono confacenti al caso in esame. L'ente, pertanto, auspica l'adozione di una migliore e più confacente collocazione di questi pazienti, considerato, come conclude la nota, che la situazione attuale legata alla pandemia e al suo momento di recrudescenza impone scelte sicuramente più idonee nell'affrontare l'assistenza dei pazienti infetti, ma sicuramente da non collocare in una unità operativa con altre finalità.